Quattro, scusate la volontà e la responsabilità di mettere a rischio l'esperienza di cosa ne pensa? Allora mi consentirete e mi scuso molto con voi, siccome ho negli anni e in questi tre mesi, quattro mesi imparato la regola della comunicazione, la comunicazione che noi vogliamo dare oggi è sulle norme contro i femminici e non copriremo questa comunicazione con altre questioni che non hanno niente a che vedere con questo quindi per quanto mi riguarda poi ovviamente il ministro Alfano di esso e invece alla generalità cioè abbiamo introdotto nel nostro sistema il furto di identità elettronica quando tu cambi il nome attraverso sostenuti dalle associazioni quindi avere un'azione di sistema per noi significa coinvolgere tutti gli attori istituzionali, grazie Quando Epifani dice che il principio di grande attenzione sull'universo femminile soprattutto sulla sensibilità, sulla delicatezza che vivono le donne in questi momenti quindi mi complimento per due domande specifiche al Presidente Letta se vuol rispondere a Renzi che ieri ha detto anche della stabilità di governo che non è chiaro 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 che non è chiaro